Trent'anni di esperienza e la nostra esperienza migliora la vostra esperienza. Per trent'anni abbiamo pianificato, ideato e gestito i nostri team per offrirvi eventi super. Grazie a una presenza globale possiamo offrirvi quel potere di negoziazione che state cercando. Nessun limite ai vostri progetti. Troviamo per voi la location ideale nella destinazione ideale.